Chi è? Chi è? Rudy Steiner, fra Uberman. Che cosa vuoi? Mia madre dice che avete una figlia adesso. Sì? Che te ne importa? Sono venuto per portarla a scuola. Perché la gente non si fa gli affari propri? Ciao, Rudy! Salve! E cosa ti fa pensare di essere degno di mia figlia? Rudy! Ho quasi 12 anni. Liesel, mangia la zuppa e vai a vestirti. Sbrigati, Liesel!